Ciao a tutti ragazzi, io sono Francesco Gabbani, volevo consigliarvi di fare un uso dei social che sono ovviamente utili e importanti per comunicare i nostri punti di vista in un modo responsabile. Prima di pubblicare qualcosa cercate sempre di capire se è il caso di farlo, perché magari da una cosa che può sembrare leggera, una stupidaggine, può nascere qualcosa di dannoso per voi e anche e soprattutto per le altre persone. Quindi è molto importante usarli in un modo consapevole. In ogni caso se avete qualsiasi tipo di problema non esitate a contattare UnaVitaDaSocial. Ciao!